Sono Rosa Canosa, coordinatrice del progetto Più Cinema per Tutti, sviluppato dall'Associazione Museo Nazionale del Cinema di Torino. Questo è un progetto volto a favorire la fruizione in sala di film da parte di persone con deficit della vista o dell'udito attraverso audiodescrizioni e sottotitoli, ma soprattutto all'interno di proiezioni aperte a tutti, quindi non in forma di evento speciale dedicato, ma all'interno della regolare programmazione delle fane.